il pregi di questa vettura su questa strada la macchina si comporta quasi come un vero fuoristrada ok, quasi e dov'è che perde oggi esattamente questo motore? da copertare le punterie ah, da copertare le punterie pertanto va a colare esattamente sui correttori di scarico giusto, ovviamente esatto, la punta è più calda di copertare le punterie con questa vettura che c'era sono riuscita a doppio sui correttori arriveremo in cima in serva a bomba eh è ancora un po' di capa non ci sono i sconfitti non ci sono i sconfitti ma non ci sono i sconfitti erano si sono i sconfitti Grazie a tutti. 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 That's it. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.